amici di motosport.com ciao a tutti e posso dire e3 è la terza puntata di analisi tecnica del web con andrea damo ingegnere amico che è subito diventato un personaggio interessante per il mondo del web perché del web che in realtà si conosce veramente molto poco da un punto di vista di regolamento e normativo e l'idea di andare a scoprire sviscerare un po alcuni concetti sta attizzando molto l'attenzione questo mi fa veramente molto piacere ciao andrea buongiorno buongiorno mi fa piacere quello che hai detto andando sull'argomento della puntata eravamo rimasti con chi ci segue che oggi avremmo iniziato ad affrontare qualche aspetto tecnico più puntuale analizzando la parte anteriore devo dire che mi sono un po messo nei problemi da solo perché come ti accennavo cercherò di essere più semplice possibile senza annoiare nessuno non voglio fare il professorino quindi cercherò di essere il più possibile chiaro puntuale con con i nostri amici mi permetto di chiamarli amici non voglio fare nessuno ascolta andrea entriamo a bomba nel nostro racconto allora tu hai identificato nella parte anteriore delle macchine un aspetto molto importante nel definire poi il disegno di queste vetture hypercar come LMDH cominciamo dalle hypercar per capire quanti filoni di muso ci sono cioè quante filosofie si è riuscito un po' a individuare oppure ogni squadra riesce a identificare le chiavi di ricerca e sviluppo in un modo diverso guarda mi permetto di dirti questo che è impossibile scendere hypercar e LMDH nella nell'analisi aerodinamica perché poi alla fine sono nello stesso campionato regole diverse ma l'aerodinamica è quella quindi mi permetto di dire che vanno analizzate in un'unica visione e questa visione l'ho divisa ho cercato di dividerla in due caratteristiche principali vi sono delle ricerche secondo me tutti hanno sicuramente elaborato molto ma si può evincere che vi è un'estremizzazione molto forte secondo me che è quella della cura la cura ancora una volta ha secondo me portato un concetto aerodinamico molto più estremo non dimentichiamoci ad esempio che la cura è stata la prima che inventò il collo di cigno per il supporto dell'ala posteriore quindi il team che lavora su questo progetto secondo me ha una visione molto molto avanzata molto estremo per chi avesse in mente la vettura ma sicuramente vi sono foto via via perdonatemi una una forma della parte anteriore molto estrema vi è uno splitter anzitutto molto ondulato che secondo me cerca di avere la maggior parte di flusso quindi avere una buona quantità di flusso sotto tutta la vettura ha una curiosa forma ad ala di gabbiano e adesso certamente la vettura appare in sovraimpressione per cui chi ci segue può intendere di cosa stiamo parlando esatto e visto che l'aerodinamica va sempre analizzata sulla vettura no noi quando vediamo qualche particolarità l'analizziamo singolarmente ma dobbiamo sempre vederla in un complesso generale arriveremo a spiegarlo anche la cura è quella con il maggior numero di fence verticali queste bandelle verticali nel diffusore posteriore non penso sia un caso deve essere quella che ha una gestione maggiore di quantità di flusso nel fondo piatto della vettura stessa e anche la vettura che ha la forma dei flick up i flick up scusate certe volte devo usare delle parole inglesi perché sono anni che uso le parole inglesi e certe volte non mi ricordo il termine italiano non è una posa non è un voler essere particolarmente ricercato userò i termini italiani il più possibile come il cap sono quelle quei pianetti che vediamo nella parte laterale e generano carico vorticoso cioè la deportanza è generata dalla turbolenza e a differenza degli altri che sono anche di dimensioni degli altri in termini degli altri costruttori che li hanno di dimensioni anche minore questi sono anche di forma più complessa nel senso che vedete hanno una risega una delle delle dei bordi verticali quindi hanno una forma più ricercata la cura gestisce il flusso in un modo molto chiaro vi è una parte inferiore vi è una par che gestisce la la deportanza di massimo poi difficile dire questo fa deportanza questo fa drag questo fa qui questo fa là cioè tutto fa tutto però insomma ci sono dei flussi secondo me sulla cura molto chiari la parte inferiore questa chiamiamo la bocca che poi una bocca fino a certo punto perché superiormente è delimitata da questo profilo chi parla difficile lo chiamerebbe beam wing che è poi una un profilo che collega i due parafanghi quindi le due carenature delle ruote che sono molto chiare di una forma piuttosto spigolosa nella parte anteriore quindi cerca di avere la maggior parte di flusso vedete che viene indirizzato nella parte superiore che va a alimentare le bocche di raffreddamento laterali le foto che abbiamo in generale sono un po particolare comunque la parte molto bella è che la scocca scende molto in basso vi è un piccolo supporto e sopra qui a questo profilo questo profilo mi permetto di dire non possiamo scindere in automatico hypercar piuttosto che lmdh perché se noi abbiamo la pazienza e la voglia di andare analizzare la toyota vediamo che è più o meno simile la toyota ha anch'essa una par una bocca molto più grande la bocca più grande mi va a generare passaggio d'aria con una salita più aggressiva rispetto alla cura in questo caso poi le varie forme sono anche legate al volume generale dell'auto stessa e anche sulla toyota vediamo una presenza massiccia della dei fari verticali molto estremi molto grandi per anche in questo caso generare una separazione di flusso netta molto forte tra quella che è la parte esterna e quella che viene indirizzata nella parte anteriore perché nella parte centrale perdonate perché anche in questo caso vi è una gestione di flusso che sale e si cerca di indirizzarlo secondo me nella toyota piuttosto verso la parte posteriore la cura perché avesse voglia di rivederlo un attimo invece a le bocche di raffreddamento del della parte termica e anche elettrica decisamente sopra e quindi direttamente verso il raffreddamento la cura abbiamo due approcci che portano l'aria al sistema di raffreddamento che sono sostanzialmente diversi pur avendo un approccio del muso con un disegno di filosofia simile assolutamente non voglio fare quello che fa solo una lista generica ma ritengo anche molto bello analizzare quanto dei team più piccoli che si immagina abbiano delle risorse inferiori come la vanval la vanval ha un'estremizzazione ulteriore di questo concetto del parafango molto estremo molto appuntito per una gestione estremamente chiara limitata delimitata e addirittura questo profilo superiore viene splittato separato in due generando quasi un effetto flap non è regolabile ma vi è una soffiatura a metà di questo profilo superiore la scocca più alta quindi si cerca di generare ancora più flusso e anche in questo caso buona parte dello stesso viene portato a raffreddare il la parte puramente termica ricordiamoci la vanval è solamente dotata di unità termica non ha l'ibrido ma anch'essa rappresenta una ricerca della parte anteriore con una separazione di flusso ma utilizzando lo stesso per generare carico aerodinamico anche con questo profilo superiore profilo superiore guardando l'immagine mi viene da farti due domande lo splitter si buono lo splitter della vanval è molto più rettilineo rispetto a quello ad esempio ad ala di gabbiano come forma che hai citato della cura e il disegno del parafango anteriore mi sembra che sia meno tozzo tenda ad avere quella forma un po più triangolare a cui eravamo abituati sulle sulle macchine di qualche anno fa rispetto per esempio alla toyota che è particolarmente bombato e squadrato sei d'accordo assolutamente poi sai bisogna capire come il disegno della persona certe volte non nego che vi è anche un po di gusto legato al tempo che sia la toyota ha una separazione netta ma molto più raggiata facciamo l'utilizzo di questo termine un concetto che a me piace un po di più perché nella mia esperienza ho visto che questo questa forma raggiata in quella che chi parla difficile chiama io che sono i cambi di direzione il flusso tende a rimanere più attaccato alla superficie quindi creando quando ciò dei cambi di direzione molto netti meno distacco quindi meno scia quando via vi troviamo delle forme molto appuntite in certe di condizioni a una separazione migliore del flusso quindi si ha un attacco in yow quindi dei cambi di direzione molto netti in curve molto molto accentuate sia un po di distacco quindi distacco crea scia scia a turbolenza e questo può andare a inficiare negativamente quella che è l'efficienza dell'aria chiamiamola efficienza cioè l'utilizzo dell'aria per fini aerodinamici deportanza tutte le volte che vi è distacco e scia dobbiamo ricordarci che è resistenza quindi io devo pagare in cavalli quindi ma cavalli su a chilowatt chilogiavoli in questo in questo contesto per poter avanzare quindi non è positivo piccola nota se posso aggiungere perché poi dobbiamo guardare in un contesto generale la cura nasce per l'inxa vi ricordate che avevamo fatto questa distinzione distinzione quando noi immaginiamo lo studio aerodinamico dobbiamo immaginare che queste autovetture non viaggiano mai a un'altezza fissa mai le vetture hanno dei momenti hanno dei moti longitudinali hanno dei moti di rollio e tutte le volte che l'altezza dal suolo cambia la velocità dell'aria sotto la stessa cambia e la sua stessa portata quindi abbiamo delle variazioni di carico verticale che possono generare dei grossi problemi perché se la variazione è notevole il pilota ha nella fase di frenata accelerazione delle sensazioni di mancanza di stabilità notevoli ora cosa succede che in america i circuiti sono piuttosto ondulati non dobbiamo pensare che sono gli stessi che troviamo in europa quindi cosa succede che le forme particolari della cura non escludo essendo questa vettura nata per l'inxa da un team che ha sempre lavorato per vetture per l'inxa sia legata al fatto che avendo una maggiore possibilità di superficie di ingresso dell'aria mi permette di essere meno sensibile alle variazioni dell'altezza dal suolo quando io quindi è meno pitch sensitivity per funzionare non deve essere estremamente bassa è chiaro che queste macchine che cercano il carico tanto più sono radenti il suolo maggiore il carico che riescono a produrre però se poi l'effetto come fino allo stallo perché quando andiamo troppo bassi vicino al suolo l'aria non passa più perdo carico però la logica è quella di trovare il miglior compromesso di funzionamento della macchina nella condizione media di un giro sì assolutamente assolutamente quindi questo è molto importante diciamo abbiamo affrontato la prima tipologia se possiamo chiamarla così di vetture mi piace proseguire andando su un concetto totalmente differente che è quello della bmw la bmw immagino vedendo la forma della calandra anteriore sia fortemente lasciatemi dire guidata da esigenze di marketing faccio un po di difficoltà con tutta l'umiltà del mondo a pensare che un aerodinamico disegni una forma di questo tipo con la matita libera se ci immaginiamo ancora la matita Andrea te lo dico te lo confermo io ho avuto modo di parlare con gente che ha seguito il progetto e ti ti assicuro questo è stato il problema che gli aerodinamici hanno dovuto risolvere dato data l'esigenza di rendere riconoscibile il marchio con i due reni bisognava interpretare diciamo l'aspetto storico con quello che giustamente è il regolamento aerodinamico e vedi ne sapevi più di me essendo tu più interno usando solo la quella cultura di esperienza di anni mi viene difficile in questo caso ovviamente hanno cercato di fare di necessità virtù e queste due bocche che chiami reni sono utilizzate al massimo per avere avere l'aria che venga usata per il raffreddamento abbiamo le prese freni laterali abbiamo le prese centrali per credo raffreddamento di componenti dell'abitacolo e quant'altro in questo slot che vi è tra i reni e lo splitter abbiamo una parte di gestione dell'aria di raffreddamento e la bmw ha una gestione del flusso in questa zona tra la parte che sale dello splitter e quella che è questa bocca che vi è davanti perché vi è un canale interno che porta a raffreddare i componenti la cui bocca di ingresso è direttamente indirizzata verso quelle che possiamo chiamare pance laterali pance laterali che gestiscono il flusso e nella anno iniziamo a vedere un attimo anche in questo caso lateralmente una una risega fatemi dire di rientro ed è gestita da una bandella verticale all'estremità del fondo piatto mi permetto di dire che rivediamo un concetto che era usato anche dal bmw nel dtm questo non vuol dire che un concetto aerodinamico si sposa su tutto ma è bello vedere come certi concetti aerodinamici alla fine possono essere sposati su vetture differenti e quindi chi le disegna o comunque chi ha una certa leadership probabilmente si porta dietro qualcosa che ha imparato negli anni e lo ripresenta nelle differenti vetture piccola nota non voglio offendere a nessuno da un certo punto di vista se noi guardiamo la bmw e la analizziamo bene e vediamo com'è fatta teniamo conto che la bmw stessa ha una superficie davanti all'abitacolo estremamente ampia quindi secondo me è stata disegnata con ovviamente la leadership d'immagine ma credo che gli abbia dato anche qualche problema perché una superficie molto grossa con la velocità molto alta che si ha in una separazione di questo tipo crea lift quindi credo che siano diventati un po matti permettetemi di dirlo a gestire questo ma infatti non è casuale andrea se osservi nella parte centrale nella zona del telaio c'è un incavo piuttosto evidente che probabilmente è pensato ad andare in direzione di quello che tu stavi dicendo non lo escludo non lo escludo bisognerebbe a fare un'analisi più approfondita diciamo che cerco di dire quello che ho ragionevolmente sicurezza possa essere delle assunzioni le faccio non voglio offendere chi fa l'aerodinamico non è questione di offendere sono analisi visuali ovviamente non si va in galleria del vento la sauber ha tutti i dati delle macchine si non penso ce li dia no 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 perché vengono vengono raccolti esclusivamente dalla fia per fare le valutazioni poi analitiche sull'omologazione della macchina che è un gioco abbastanza complicato mi permetto piccola curiosità non aerodinamica ma aerodinamica in fondo chi ha la pazienza la voglia di guardare a fondo di fianco ai gruppi ottici di tutte le macchine vi sono delle piccole prese di raffreddamento perché la tipologia di fare laser led o quant'altro di ogni delle vetture moderne genera un'immensa quantità di calore e per esperienza vi dico che la gestione del raffreddamento del gruppo ottico quindi delle centraline di potenza di gestione è fondamentale per l'affidabilità delle stesse e certe volte anche per evitare quella che la parte di umidità che ne viene quant'altro quindi mi è piaciuto e lo condivido con voi vedere come qualcosa con cui ho lottato nel passato ancora oggi è parte integrante della della gestione delle di queste vetture anche perché ricordiamoci scusate sono noioso forse ma sono gare di durata in una gara di durata una 24 ore una gara quelle che si corrono anche nella parte di notte rompere un faro è drammatico quindi puoi avere la vettura più performante del mondo e poi per una gestione del raffreddamento del gruppo ottico fatta in modo superficiale o non preciso ti ritiri o perdi performance questa è secondo me anche la parte molto bella affascinante di questa tipologia di gara ecco ma i fuori i fuori nei fari diventano un aspetto negativo per quello che riguarda l'andamento del flusso in quella zona visto che tu hai parlato di un'area critica della macchina e se non separatore di flusso impariamo tutti insieme una cosa qualunque presa l'area è un disturbo aerodinamico è un disturbo aerodinamico quando si fanno i test in galleria mediamente adesso con la tecnologia avanzata ma io la cosa che si faceva quando con più capelli ero un boccia aerodinamico si facevano sempre i test chiamati maquette cioè si chiudevano completamente tutte le bocche della vettura per capire quanto fosse penalizzante il flusso interno e cercare anche di ottimizzarlo noi vedremo vediamo comunque che oggigiorno tutta la gestione dei flussi interni si cerca di fare nella maniera più pulita possibile perché tutto quello che è contatto di aria con superficie e drag tutto quello che genera ehm turbolenza e drag quindi si cerca di gestire nella maniera più pulita possibile immagino che queste aperture seppur piccole ma credetemi si cerca veramente quando si vuole vincere la peculiarità siano state posizionate sicuramente in una zona di massima pressione pressione vuol dire viene chiamata di arresto dell'aria quindi vedete che sono in una superficie verticale e vengono messi eh in quella zona quindi cerca di avere la massima pressione per poterle fare nella più piccole possibile quindi avere un'efficienza di utilizzo del dell'aria massima perché più vengono fatte grandi più entra aria più abbiamo resistenza quindi secondo me anche questo è stato fatto in una maniera molto precisa e immagino vi siano dei condotti dell'aria dietro queste prese per indirizzare la stessa in maniera puntuale nei punti di calore per evitare che ci sia un girovagare dell'aria all'interno di volumi che dà sicuramente eh delle delle ma è necessario anche avere uno sfogo di quell'aria per evitare che ci stia poi eh una una ricordiamoci che tutto quello che entra deve uscire altrimenti non non entra cioè eh tante volte le parzializzazioni dei flussi vengono fatte all'uscita del del dei condotti perché comunque sono sempre delle limitazioni al flusso dell'aria e se fatte all'uscita permettono di avere meno disturbo in zone di scia ad esempio piuttosto che parzializzare eh la parte di ingresso molto bene lo vedete anche eh in formula 1 tante volte no dove le bocche sono quelle ma sono le parzializzazioni di uscita che vengono usate per gestire quella che la quantità d'aria utilizzata per il raffreddamento dicevo eh se abbiamo la pazienza andiamo a vedere la eh la cadillac più o meno lasciatemi dire il il fornitore è abbastanza lo stesso e in effetti vediamo una gestione al netto di quella che è la forma secondo me più complicata eh piuttosto simile uno splitter di forma relativamente simile una separazione anche in questo caso netta e chiara non abbiamo un profilo superiore abbiamo una bocca e il flusso va a alimentare degli ingressi dell'aria per il raffreddamento molto avanzati e quindi eh non voglio offendere a nessuno una gestione piuttosto semplice di quella che è l'aerodinamica anteriore con efficienza non efficienza che può andar bene mi colpisce molto ma non mi stupisce eccessivamente questa mh fascia verticale molto netta molto pronunciata che ha la cadillac nella parte anteriore con dei raggi molto eh forti di di separazione tra le superfici di quelli che sono un po' il cofano peraltro la bmw e la cadillac hanno proprio un piccolo cofano nella parte anteriore che si separa per evitare di dover togliere tutta la parte di carrozzeria anteriore grazie al quale possono accedere alla regolazione eh di alcuni settaggi di sospensione a vedere soprattutto l'ammortizzatore che genera i movimenti che generano scusate che gestisce i movimenti verticali dell'asse anteriore però lasciamelo dire tu tu non ti azzardi il fornitore eh di cadillac e bmw è l'italianissima dall'ara sì diciamo che si vedono dei concetti riproposti messi in maniera diversa ma si possono vedere dei concetti eh riproposti quello che invece è molto ti è molto peculiare della cadillac sono queste mh pinne orizzontali un po' bat car che abbiamo sui parafanghi anteriori e anche sul parafango posteriore che sono dei netti separatori ma più che separatori secondo me sono stabilizzatori di flusso per evitare le turbolenze quindi regolarizzano il flusso quindi nella parte anteriore secondo me all'estremità eh posteriore del parafango anteriore sono eh degli stabilizzatori hanno una leggera incidenza eh permettetemi scusatemi negativa positiva dipende se volessi aerodinamici eh aeronautici o automobilistici e comunque diciamo con un'incidenza di questo tipo rispetto al flusso dell'aria e servono secondo me a tenere attaccato alla superficie e quindi ridurre le turbolenze eh l'aria e abbiamo una pinna uguale che non è una pinna è orizzontale ma chiamiamola pinna orizzontale il eh analogamente al retrotreno e anche in questo caso secondo me serve a stabilizzare molto il flusso verso l'ala posteriore e alla e all'estremità del cofano posteriore che credetemi è un utensile molto importante uso la parola utensile per gestire la depressione posteriore quindi l'estrazione del flusso dell'aria da sotto la vettura che genera un carico molto importante. Un aspetto curioso perché in qualche modo pur non essendo un profilo alare ma la funzione poi diventa quella è molto simile alla seconda ala che che si è sulla Ferrari ne parleremo dopo immagino. Eh sì eh con regolamenti totalmente differenti ma sì 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 Fatemi datemi ancora due minuti per parlarvi di una vettura che è totalmente diversa totalmente usiamo la parola totalmente siamo un po' forti ed è la Porsche guardando la Porsche rispetto alle vetture che abbiamo eh sulle quali abbiamo ragionato insieme fino adesso si si va a ragione a vedere una cosa totalmente diversa i fari sono orizzontali lo splitter è più o meno ondulato ma è comunque di una forma più ricercata degli altri mi ricorda più una cura eh di origine che gli altri di abbiamo analizzato e abbiamo una bocca che genera il flusso interno ma secondo me è gestito nella maggior parte per aiutare l'estrazione del flusso dallo splitter anteriore perché in questo caso abbiamo un concetto estremamente preso da quelle che erano le vetture LMP1 quando avevamo le sfide Toyota Audi e Porsche stessa quindi qui c'è di nuovo tu dici un riferimento molto chiaro alla storia assolutamente sì una gestione anteriore un po' diversa ma il parafango isolato da se stesso se guardassimo una foto da diciamo tre quarti posteriore vedi che il parafango isolato da se stesso vi è un canale d'aria assolutamente pulito senza quasi niente nella parte superiore e le bocche di ingresso che si possono vedere in modo chiaro del raffreddamento della parte termica e elettrica sono molto arretrate. Apro una parentesi vi ricordate che nelle chiacchierate che abbiamo fatto insieme abbiamo parlato per quello che riguarda l'MDH di un telaio unico molti componenti unici ma la possibilità di gestire motore molto piccolo tipo è caso estremo della cura posizione dei radiatori e quant'altro ecco se poi magari avremo modo con Franco di ragionare insieme la posizione dei 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 radiatori intercooler della Porsche è molto più arretrata rispetto a quella delle altre macchine di cui abbiamo ragionato insieme fino adesso quindi in una posizione passo hanno deciso di avere condotti piccoli riduzione peso ma anche ripartizione masse molto più verso il retrotreno che verso l'avantreno degli altri quindi ecco diciamo per identificarle come spazio sono messi a freccia verso l'apertura? Nel caso sono quasi tutti inclinati in qualche modo poi la freccia è ampia diciamo che nella Porsche hanno una forma di questo tipo che può dire molto niente sono frecce però sai ci sono frecce con i radiatori così frecce con i radiatori così sono tutti comunque messi in modi fantasiosi fammi dire non ne sono il tipico verticale piatto così hanno tutti delle forme piuttosto inclinate ed è una cosa che mi ha affascinato molto perché ti fa capire come si cerca di abbinare la posizione del radiatore con l'ingresso dell'aria per far sì che la direzione dell'aria sia sempre perpendicolare alla superficie del radiatore per far sì che ci sia un'estremizzazione dell'utilizzo dell'aria non ci siano delle degli angoli tra la superficie del radiatore quella che è la direzione più o meno supposta del flusso dell'aria perché anche in questo caso potremmo avere visto che ci piace dire micro vorticosità e quindi meno efficienza dell'utilizzo delle alette di raffreddamento del radiatore stesso perché più utilizziamo il radiatore più possiamo farlo piccolo più riduciamo peso meno abbiamo bisogno di aria e quindi resistenza all'avanzamento per raffreddare perché la lotta ormai sono quasi 30 anni che sono nel motosport ma le lotte se posso usare la parola lotta ma in senso buono più forti che ho visto nella nella mia esperienza sono state quelle tra i motoristi e gli aerodinamici perché l'aerodinamico estremo non vuole bocche di raffreddamento il motorista vorrebbe che l'anteriore delle vetture sia forse un buco non unica apertura perché chiaramente ma in una sede di progetto come si trova l'alchimia chi è che detta è il regolamento per cui è l'aerodinamico che che impone delle misure delle definizioni noi abbiamo un adrian newey andando in formula uno che ha sempre cercato di estremizzare il concetto della chiusura mettendo spesso in difficoltà il motorista e a volte certe rotture ricordiamo le polemiche con renault erano erano finalizzate a prese forse troppo piccole guarda io credo che la vettura migliore il team che vince quello in cui tutti sono in una direzione che è quello di vincere perché quando tu hai l'ingegnere motorista che è troppo conservativo perché almeno io non ho problemi non vinci cioè quando tutti sono come parlano quelli che parlano i piccoli nella comfort zone non vinci non ci sono santi non ci sono logiche l'aerodinamico deve essere anche intelligente perché a fare l'aerodinamico in cima alla collina che dice alla macchina dinamica perfetta è così sono tutti capaci non voglio essere frainteso è chiaro che il compromesso tra l'aerodinamico che capisce le esigenze del motorista che sta diventando matto a disegnare un motore che può viaggiare a temperature alte trovano il compromesso e quindi è lì che tra l'intelligenza delle persone che lavorano insieme come team riescono a capire poi alla fine c'è sempre uno che decide perché io quelle strutture matrici in cui non si capisce bene chi comanda non le ho mai capite alla fine e ho sempre visto comunque che i team che vincono avevano uno che decideva in ferrari o sbron in red bull new way eccetera eccetera quando iniziano a esserci troppi che decidono non lo so è chiaro che a quel punto vi è qualcuno che ha una visione d'insieme della vettura perché avere la visione d'insieme della vettura vuol dire poi avere in mano il progetto e capire dove puoi aver bisogno è chiaro che poi non viene anche una decisione unica per un circuito ci sono dei circuiti dove si può compromettere la temperatura e altri dove non si può compromettere la temperatura quindi hai bisogno di raffreddare perché anche io che più vai piano più hai bisogno di raffreddare d'altra parte certe volte più vai piano più hai bisogno di carico aerodinamico no quindi insomma sono compromessi dove si ragiona insieme e si si decide poi ci sono le strategie ci sono gli utilizzi di motori che possono essere più o meno spinte in differenti fasi di gara eccetera eccetera però vedendo gare come le gare di durata mi permetto di aggiungere un'altra cosa basata sempre sull'esperienza che un disegno estremo di prese dell'aria eccetera eccetera vanno bene se devi fare una gara corta quando iniziare anche solo sei ore di gara devi fare attenzione non pagando le 24 ore perché se le prese d'aria sono posizionate in un modo aerodinamicamente perfetto ma sono esposte continuamente all'ingresso di detriti e in gare di durata abbiamo in pista un deposito di gomma vera incredibile che creano ma credetemi delle palle così che entrano bloccano il radiatore bloccano il flusso tu hai una presa d'aria che in galleria era bellissima sulla carta era bellissima ma viene occlusa velocissimamente quindi tu sei obbligato a sosta ai box a pulire e quindi ti trovi tra virgolette scusatemi fregato per cui la macchina perfetta in pista secondo me deve essere anche studiata con l'esperienza dell'uomo della non dico della strada ma della pista no e quindi e è qua dove l'input di differenti esperienze di differenti eh eh malizie di differenti capacità di visione può essere eh gestita per cui mettere la presa d'aria davanti ed è qua che la presa Porsche a mi piace molto perché ti fa capire come tutto sommato eh l'esperienza di un team come Porsche che mamma mia fa fa io non ero ancora nato facevano già gare di durata eh si può vedere per cui una presa d'aria molto anteriore mh può essere più piccina ma è anche più velocemente perché la pressione dell'aria la capacità dell'aria di entrare è maggiore però magari si occlude in maniera più veloce e quindi tu devi fermare i box a pulirla quindi perdi tempo quindi sono tantissimi fattori che dobbiamo valutare quindi l'aerodinamico che fa la macchina perfetta secondo me deve essere capace di interfacciarsi con un ingegnere di pista eh l'ingegnere progettista del motore non dimentichiamoci queste macchine continuano ad avere le sospensioni e lì davanti l'interferenza dei braccetti sospensioni è ancora notevole tanto quanto in Formula 1 solo che sono più nascoste dalla carrozzeria e ce li dimentichiamo ma anche il disegno della sospensione con i bracci molto alti magari con la scocca molto alta per permettere al flusso di essere non disturbato o disturbato meno in uscita dallo split ti crea meno pressione contro pressione quindi l'aria viene a essere più fluida nel suo movimento e d'altra parte però devono anche essere disegnati in modo tale che siano robusti perché sono gare di durata. Il tema è estremamente interessante molto complicato dimostra come le varie indicazioni eh che tu ci hai dato mostrano un orientamento aerodinamico spesso molto diverso. Io a questo punto ho una curiosità ci hai dato visioni eh con approcci di studio che sono totalmente diversi e con tanti legami rispetto a quello che non è tanto il disegno eh storico il ricordo quanto probabilmente la filosofia con cui eh i team aerodinamici eh fanno le ricerche e quindi vanno poi a prendere quello che tu giustamente hai detto nelle conoscenze eh che hanno dentro casa però a questo punto vorrei identificare e collocare la Ferrari la 499 P dove dobbiamo metterla? Beh secondo me è la vettura più non mi viene da chiamare l'estrema non è estrema il termine ma è quella dove mi sembra che ci sia stata una ricerca aerodinamica più raffinata eh è quella con le microfin eh maggiori sui parafanghi anteriori vi è vi è una una piccola ehm scusatemi film non mi viene da me una bandellina film longitudinale film eh a metà del cofano anteriore ve ne è un'altra a sul cupolino ve ne è un'altra vi sono quelle sul tetto ma quelle ve ne hanno quasi tutte vi è una ricerca dei differenti flussi e lo splitter il bordo d'attacco dello splitter di nuovo in questo caso una forma ondulata molto ricercata anche in questo caso troviamo le prese piccole prese d'aria per il raffreddamento dei fai la forma ad esempio delle aperture obbligatorie eh sui pneumatici sui parafanghi è quella che ha sfruttato il regolamento nella maniera più maliziosa una delle più maliziose ma molto intelligente ovviamente perché eh queste aperture che sono obbligatorie per evitare l'effetto portante in caso di testa a coda che è quello che generava nel tempo se vi ricordate queste macchine sport che appena andavano in testa a coda volavano quindi in questo caso si elimina superficie e quindi meno portanza ma viene il regolamento studiandolo bene quindi il passaruota faceva da vela e sollevava la diciamolo bene esatto un po come le mercedes che volava eh quindi la ferrari è quella che ha una ricerca di più la ferrari ha una ricerca incredibile nella parte posteriore vi sono delle eh paratie laterali dell'alettone posteriore enormi con dei soffiaggi quindi ritengo che sia la macchina con la ricerca aerodinamica mhm dovrei trovare l'aggettivo italiano corretto in questo momento mhm non penso che Porsche non abbia fatto una ricerca spinta assolutamente però la ferrari è quella dove si è cercata una gestione sofisticata sofisticata va bene questo tempo per quello che tu sei ingegnere io tu sei giornalista io ingegnere vedi dovrei imparare per quanto leggo dovrei leggere di più per la gestione di questi aggettivi più a portata di mano per questi video vi chiedo scusa però anche nella parte laterale nelle pance vediamo che vi è questa risega analoga a quella che vi raccontavo di BMW per la gestione dei flussi di raffreddamento dei freni e quant'altro in questo caso la gestione invece del raffreddamento dei gruppi termici ha delle bocche molto più avanzate della Porsche ma sempre che prende da questa parte qua abbiamo la mancanza di questo bim un cofano molto grande ma che ha queste aperture che vediamo che spaccano permettetemi di dire spaccano la superficie quindi la depressione non fa alzare la vettura ma in questo caso viene usata per estrarre l'aria calda che è stata usata per raffreddare degli elementi anche perché la Porsche è una LMDH quindi non ha anteriormente un motore elettrico e quant'altro Ferrari Ipercar ce l'ha quindi lì davanti qualcosa che scalda ce l'abbiamo e va gestito tema molto interessante cercheremo di andarlo ad approfondire ulteriormente con una quarta puntata come vi ho già detto nelle puntate precedenti commentate qui sotto fateci sapere fateci le domande alle quali volete che si dia una risposta Andrea io ti ringrazio come mi sono dilungato un po' è un argomento che mi prende io arrivo da lì e quindi mi prendo devi solo dire meno mi scuso perché sei te il professore che che ci spiega a casa degli altri quindi cerco di entrare in punta di piedi ok grazie amici di motosport.com grazie per averci seguito in questo terzo appuntamento sulla tecnica del WEC cliccate la solita campanella che trovate per iscrivervi al nostro canale e così ricevere tutte le informazioni e gli alert sui prossimi video di motosport.com ciao a tutti appuntamento a venerdì prossimo